L'esito delle elezioni universitarie all'adannunzio Chieti-Pescara. La lista dell'Associazione Studentesca di Destrazione Universitaria si è imposta con quasi 2.900 voti complessivi sulle altre due liste 360 gradi vicino al centro-sinistra, che ha riportato 1.900 preferenze e pass, anch'esso orientata a sinistra con circa 1.200 voti. Affluenza e crescita rispetto alle precedenti elezioni, alle urne si è recato il 25% dei quasi 27.000 studenti dell'adannunzio. In tanti si sono congratulati con i vincitori, a cominciare dal presidente della regione Marco Marsiglio, i parlamentari abruzzesi di Fratelli d'Italia Sigismondi, l'Iris e testa il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia. Un risultato oltre tutte le aspettative, commenta Nicola D'Ambrosio, presidente nazionale Azione Universitaria. Ve lo aspettavate una vittoria di questo tipo? Non con un consenso così ampio. Ormai sappiamo che è tradizione consolidata, è il buon lavoro che fa Azione Universitaria qui. Io non sono più presidente da qualche anno a Chieti, ma so di aver lasciato ai ragazzi un'associazione, una struttura solida. Non con un consenso così ampio, i ragazzi hanno lavorato bene, è salita l'affluenza, è salito anche il consenso per Azione Universitaria che è il suo record storico. I ragazzi sfiorano i 2.900 voti di lista, credo sia il risultato più alto di sempre per un'associazione studentesca qui in D'Annunzio. Quindi un gran bel risultato. I punti fondamentali, i punti salienti? Io credo che sia stato il portare avanti la coerenza di una tradizione, la coerenza di aver avuto sempre le idee dalla stessa parte. Oggi leggevo i giornali che titolano Vince la destra in D'Annunzio, poi su questo volevo farlo un passaggio perché dentro Azione Universitaria vince innanzitutto la possibilità per ogni ragazzo di potersi esprimere, per ogni ragazzo di poter raccontare quelle che sono le esigenze di una generazione. E loro lo fanno con un gruppo umano che magari aggrega anche ragazzi sfiduciati o stanchi della politica dei grandi che imparano, che c'è ancora chi fa politica per farla in maniera buona, per farla in maniera ancora sana. Poi si appassionano magari alla destra o alle sigle di partito che ci vedono, in cui poi sfociamo sui territori, magari perché lo facciamo meglio di qualcun altro. Un consiglio a questi ragazzi? Intanto io devo congratularmi, è un passaggio fatemelo fare, con Alessio Pignocchi che è il nostro neoletto in consiglio di amministrazione, con Anna Carnevale che è la ragazza che esce dal consiglio, la nostra rappresentante uscente in consiglio di amministrazione, con Claudio Bariami che è il nostro riferimento su chiedi ormai storico, già CNSU e consigliere di amministrazione Nazzo. Il consiglio che gli do è di non cambiare mai, di continuare così come hanno fatto, a volte anche di permettersi il lusso di far valere le posizioni di quella che è una generazione, non essere mai supini a chi gli possa chiedere di allinearsi perché si sa che il loro posizionamento politico è magari a destra.